Bambini e genitori, studenti e insegnanti. In tanti hanno partecipato alla manifestazione ai giardini estensi per chiedere la riapertura delle scuole e la ripresa delle lezioni in presenza attualmente sospese come misura anti-covid. Anche Varese ha aderito all'iniziativa organizzata su scala nazionale dalla rete Scuola in Presenza che raggruppa 20 comitati per un totale di circa 40.000 persone. A Varese l'organizzazione è stata curata dal comitato spontaneo prima a scuola. Distanziati e con mascherina, i partecipanti hanno portato zaini scolastici e bavagli bianchi, simbolo della mancanza di voce. Il messaggio lanciato dai manifestanti è stato chiaro. Basta didattica a distanza, bisogna riaprire le scuole al più presto.